Musica Venerdì 14 giugno, buongiorno con la nostra rassegna stampa. Andiamo subito a vedere insieme i quotidiani nazionali e locali, oggi pagina speciale, copertina speciale per la Repubblica, doppia copertina, una dedicata interamente agli europei, gli europei che raccontano la nostra storia, scrive Paolo Condò in questo editoriale. L'albo d'oro degli europei di calcio si apre nel 60 con un po' di occupato dai paesi che non esistono più, l'URSS, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia. Basterebbe questo dato a conferire al pallone la dignità di materia di studio alla facoltà di storia. Delle prime sei edizioni le nazioni scomparse ne vinsero quattro. Vanno aggiunti infatti i ciecoslovacchi del 76 e la Germania Ovest del 72 e dell'80. Ovvero la caduta del muro ebbe effetti disgreganti ma anche aggreganti. Quello che parte stasera a Monaco di Baviera è il primo europeo organizzato dalla Germania riunificata a meno di una settimana da elezioni che l'hanno scossa nelle fondamenta. La prima pagina, la copertina di Repubblica dedicata oggi al G7 che si è aperto ieri in Puglia. Sono giorni molto importanti per il nostro paese che ospita i sette grandi del mondo ed è scontro tra Macron e Meloni. Il presidente francese interviene a gamba tesa sull'aborto. Spiace, manchi la parola. Abbiamo sensibilità diverse. Dura replica della Premier, sbagliato fare qui campagna elettorale. Si negozia sulla bozza, oggi arriva il Papa. Dai beni russi 50 miliardi per Kiev, Mosca, la nostra risposta sarà dolorosa. E dunque la Premier Meloni accoglie i sette grandi a Borgognazia in Puglia. Accordo sugli asset russi, 50 miliardi di dollari di aiuti all'Ucraina da consegnare entro il 2024. E da finanziare con gli interessi maturati dalle proprietà russe congelate in accidente. Mosca minaccia ritorsioni. È scontro intanto con Macron. Abbiamo visto sulla mancata citazione del diritto all'aborto nella bozza delle conclusioni finali. Oggi arriva il Papa. La politica ancora bagarra sulle riforme sospesi. 11 deputati e le opposizioni scendono in piazza. La violenza parlamentare. Se un parlamentare della Repubblica colpevole di opposizione può essere aggredito e picchiato al centro dell'emiciclo da energumeni, dal pensiero corto e feroce, cosa potrà mai accadere domani a un cittadino che manifesterà il suo dissenso? E a uno studente che protesterà in piazza contro una maggioranza finita sotto le insegne della decima mass. Questa è la domanda di Carmelo Lopapa oggi su Repubblica. in seguito alle brutte immagini che sono arrivate appunto dal Parlamento nelle ultime ore. E per lo sport c'è una firma speciale oggi su Repubblica, Yannick Sinner, che scrive la famiglia al centro del mio tennis. Quando mi fermo a riflettere sul mio percorso di tennista, tennista professionista, fino a questo momento della mia giovane carriera, mi vengono in mente ricordi, emozioni e tanta gratitudine. Nella vita del tennista per me spicca il sostegno incrollabile della mia famiglia. Allora andiamo a vedere i particolari di questo G7 molto teso. A parte la svolta per l'Ucraina, i 50 miliardi dai beni russi che si è deciso al tavolo. Gli aiuti verranno rimborsati con gli interessi maturati dagli asset sequestrati in Occidente. Poi Biden e Zelensky, patto per la difesa. Ora Kiev è più vicina a entrare nella Nato. Il presidente USA parla di sanzioni a chi aiuta i russi. E ancora il discorso del presidente Mattarella. Nella prima giornata ad accogliere il G7, il capo dello Stato dice sono riapparsi antichi fantasmi. Il monito di Mattarella ai leader, il discorso alla cena davanti ai sette grandi, critiche alla Russia, sostegno all'Ucraina e poi in Israele. serve una pace duratura. Antichi fantasmi sono riapparsi nel mondo. Non siamo qui soltanto insieme per un coordinamento economico, ma per ritrovare valori comuni. Nel G7 delle polemiche politiche ci pensa il presidente della Repubblica, come sempre Sergio Mattarella, a mettere le cose in ordine e cercare un punto di sintesi che renda il vertice di Borgo Ignazia una piattaforma per affrontare i problemi del presente, consapevoli tuttavia di non poterlo fare da soli. Partendo da alcune certezze. Sostenere l'indipendenza dell'Ucraina, dopo che la Federazione Russa si è assunta la responsabilità storica di riportare la guerra in Europa, mettendo così a rischio la convivenza tra le nazioni. E poi in Israele lavorare a una pace duratura che non può che fondarsi sulla soluzione a due stati dopo il barbaro attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023. Queste le parole del presidente della Repubblica che sono arrivate dopo aver fatto insieme con sua figlia Laura Gli onori di casa. Infine, la guerra tutta politica tra Macron e Meloni. Macron attacca sull'aborto la replica di Meloni, fa campagna elettorale. Nel testo finale del summit, i sette concordano nel citare il vertice di Hiroshima e i diritti riproduttivi. Il francese dice abbiamo sensibilità diverse, gli USA nessun passo indietro. Schlein parla di vergogna nazionale. Dopo lo scontro fatto di sospetti, soffiata la stampa e recriminazioni affidate alle fonti, sull'aborto va in scena il botto e risposta tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni, nonostante i formali buoni rapporti alla cena di gala. Il presidente francese si è riaddetto rammaricato della scelta italiana di non menzionarne il diritto nel documento conclusivo del G7 in preparazione in queste ore. Poi, prima di chiudere, andiamo a vedere, è il giorno del Papa, l'intelligenza artificiale non diventi strumento di guerra. È il monito di Papa Francesco. è la prima volta di un pontefice al summit del G7. Dieci bilaterali in agenda per parlare anche di pace. Bergoglio incontrerà Biden, Lula e altri otto leader in dieci diversi incontri bilaterali. E allora, lasciamo l'edizione nazionale di Repubblica, andiamo a vedere l'edizione Napoli. Villa comunale, via i lavori, due anni per rifare i giardini. Aprono i cantieri per recuperare il parco pubblico sul mare. Prevista una spesa di 2,7 milioni per le opere. Montate le transenne, restano aperti solo due cancelli. L'assessore Santagada dice gestione pubblico privata. L'indagine della Procura su 19 attività di Mergellina, blitz contro i chioschi, scattano i primi 5 sequestri. Nell'immagine i vigili urbani ai chioschi di Mergellina a Napoli. La tragedia del kayak la famiglia di Cristina dice andremo fino in fondo. E poi a piede pagina la polemica politica Schmidt se perdo le elezioni resto a Firenze e a Capodimonte. Il direttore dice sarò capo dell'opposizione in Consiglio Comunale. C'è qualcosa che non torna nelle ultime affermazioni di Eike Schmidt. Cosa farò in caso di perdita delle elezioni comunali? Annuncia resterò in Consiglio Comunale come capo dell'opposizione. Non sembra quindi avere dubbi il direttore di Capodimonte in corsa per la poltrona di sindaco di Firenze per il centrodestra al ballottaggio del 23-24 giugno. Lo ha rivelato durante un faccia a faccia con l'avversaria Sara Funaro e a Napoli scoppia la polemica. Intanto arriva l'SOS al sindaco Manfredi da parte degli industriali sulla città fragile più decoro urbano vigili e strade sicure. Ma il sindaco parla di eredità drammatica il salto di qualità richiede tempo ci vuole più collaborazione. Dunque noi vogliamo stimolare e avere dal sindaco qualche risposta premette Costanzo Iannotti Pecci presidente dell'Unione Industriale di Napoli e gli imprenditori hanno invitato Gaetano Manfredi alla loro assemblea. Dopo la sistemazione dei conti spiega il leader di Palazzo Partanna adesso bisogna superare le criticità. La lista è lunga dal decoro urbano alle strade in condizioni precarie alla città sguarnita di vigili. Manfredi ascolta dice di condividere anche le cose che non vanno alle quali lo inchioda una platea che è una fetta che conta di quella città che l'ha voluto al vertice di San Giacomo. Non riusciremo a fare il salto di qualità a mica l'ex rettore senza la collaborazione tra istituzioni e un forte impegno delle forze produttive. Poi Manfredi gela le aspettative più rose ma il salto di qualità non si fa in poco tempo è un percorso che richiede tempo e parte dall'eredità drammatica il sindaco tra bilancio e disordine amministrativo ma poi da ingegnere riesce sempre a strappare sorrisi su una questione cara agli industriali le strade con la brodo abbiamo il paradosso rivela il sindaco che per quattro anni il servizio fognario non aveva padrone era stato trasferito dal mio predecessore all'ABC la società idrica del comune ma non era stato preso dall'ABC e c'era una causa tra comune e la partecipata al 100% è un'assemblea con l'intervento in video del neopresidente nazionale Emanuele Orsini la nuova squadra di Gianotti Pecci nel biennio 24-26 con due new entry Antonio Liotti e Pierluigi Petrone a Mergellina intanto scatta il blitz contro i chioschi fuori legge sequestrati i primi 5 sversamenti a mare abusi e licenze irregolari nello spazio dove fu ucciso il giovane Maimone e i genitori sul posto per ritirare una targa la portiamo via dimenticati da comune e istituzioni da ieri dunque è iniziata una vasta attività di indagine sui 19 chioschi del lungomare destinata a proseguire anche nei prossimi giorni 5 le attività finora controllate sono finite tutte sotto sequestro con sversamenti a mare abusivi e abusivismi edilizi le principali irregolarità contestate oltre a problemi sulle licenze commerciali e ancora sulla Repubblica il caso della giovane uccisa travolta in kayak da uno scafo nelle acque davanti a Villa Rosberry la famiglia di Cristina dice andremo fino in fondo per capire cosa è successo oggi ci sarà l'autopsia sulla donna travolta e uccisa da uno scafo mentre era in mare perizia sulla barca dell'unico indagato l'avvocato Guido Furgioele i genitori dicono non abbiamo parole per quanto è accaduto e ci sentiamo vuoti e totalmente impotenti abbiamo però piena fiducia nel lavoro della magistratura e siamo sicuri che presto emergerà la verità per ora non riusciamo a darci pace andremo fino in fondo per capire che cosa è successo andiamo a vedere adesso il Roma doppia apertura da una parte l'inchiesta sulle infiltrazioni dei contini all'ospedale San Giovanni Bosco i favori di manetta al capo clan Botta De Luca Cacciamo la camorra dal San Giovanni Bosco e l'altra apertura Cristina la famiglia fino in fondo per la verità oggi l'autopsia sul corpo della trentenne uccisa da una barca mentre era in kayak le richieste degli industriali adesso l'Europa rilancia il settore manifatturiero assessore ai domiciliari a Caserta a parti pilotati cinque arresti pestato a sangue dal parcheggiatore aggressione a Marecchiaro a Pozzuoli riprende a salire il suolo e De Luca stanza dei finanziamenti per i rischi sismici e poi Conte il calcio Conte insiste per i rinforzi vuole buongiorno e Lukaku oggi via gli europei domani tocca l'Italia fuori il ramporlo De Casella alta tensione a Ponticelli scarcerato a Ulisio Junior torna l'incubo della faida andiamo a vedere nelle pagine interne il primo piano dedicato agli industriali le richieste all'Europa Napoli si sigli presto l'accordo di coesione ok il governo sulle ZES ma riveda l'autonomia differenziata gli annotti pecci bisogna rilanciare il manifatturiero e l'industria ad alto tasso di innovazione Forza Italia l'appello di Martuscello agli alleati italiani io commissario no sono più utile da ministro Campania le elezioni regionali candidati credibili e puliti il neoparlamentare del PD ruotolo welfare prioritario e politiche per le aree di crisi chi mi ha sostenuto la maggioranza Schlein non certamente De Luca con tutto il suo sistema di potere dice ruotolo l'inchiesta su San Giovanni Bosco lo portiamo qui a disposizione fratello le mani dei Contini sull'ospedale al centro dell'inchiesta con dieci arresti le manovre di Gennaro Maradona Manetta per favorire il RAS Carmine Botta intanto sul Roma troverete anche parte delle intercettazioni tra Botta e Maradona ovvero Gennaro Manetta De Luca dal 2016 combattiamo contro la camorra il governatore dice abbiamo cacciato i delinquenti dall'ospedale ed è dal 2018 che chiedo l'istituzione di un presidio di polizia andiamo a vedere le pagine nazionali dopo la rissa un'altra bagarre sull'autonomia in aula la sinistra urla al fascismo Castellone servirebbe dialogo De Luca pronto alla piazza con PD e Movimento 5 Stelle il lavoro continua a crescere ma Banca Italia gela il PIL più 0,6% nel primo trimestre più 75 mila occupati a Caserta terremoto in comune l'inchiesta sui presunti appalti truccati e il voto di scambio 5 arresti anche l'assessore ai lavori pubblici c'è anche Massimiliano Marzo nel riquadro della foto tra i destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa su richiesta della procura di Santa Maria Capovetere ed eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Caserta in una mattinata che letteralmente ha terremotato il comune nel mirino scuole e verde pubblico le ipotesi di reato sono presunta truffa falso e corruzione con marzo ai domiciliari sono finiti anche i dirigenti Franco Biondi e Giovanni Natale il dipendente comunale Giuseppe Porfidia e l'imprenditore Gioacchino Rivetti in tutto sono 14 gli indagati di un'inchiesta partita due anni fa al cui centro ci sono le gare per l'affidamento dei lavori pubblici i lavori nel mirino riguarderebbero i plessi scolastici il verde pubblico e il canile comunale per circa 180 mila euro sullo sfondo anche un'ipotesi di presunta corruzione elettorale che riguarda alcuni degli indagati e non i cinque destinatari dell'ordinanza cautelare dalle indagini emergerebbero voti pagati 50 euro in occasione delle elezioni comunali del 2021 il GIP parla di un presunto allarmante scenario di gestione privatistica dell'arresta pubblica anche attraverso pratiche corruttive sottolineando la pervicacia e la spregiudicatezza degli indagati che in ragione delle diverse qualifiche rivestite al comune ottenevano il soddisfacimento di interessi privati tra gli indagati c'è anche il dirigente comunale Luigi Vitelli e il vice sindaco Emiliano Casale che risponde di voto di scambio in relazione alle elezioni comunali del 2021 ovviamente per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza il sindaco Marino dice piena fiducia nella magistratura il sindaco Carlo Marino sottolinea fiducia nelle forze dell'ordine al tempo stesso aspica che le persone coinvolte nell'indagine che riguarda singoli episodi possano chiarire quanto prima la propria posizione San Giuliano a Berlino rimpatriati 25 oggetti italiani trafugati firmato un importante accordo il ministro si tratta di reperti archeologici che gli esperti reputano di grande importanza un accordo per la restituzione di 25 oggetti di provenienza italiana appartenenti alla fondazione per l'eredità culturale della Prussia presieduta da Parzinger e attualmente esposti presso l'Altes Museum nella sezione della collezione di antichità classiche andiamo a vedere nelle pagine interne a Benevento ragazzi torturati c'è il processo il GIP Landolfi ha fissato il giudizio immediato dei quattro indagati per il 10 settembre prossimo erano andati a chiedere scusa per una rissa a Pietrelcina vennero sequestrati e umiliati per ore fissato dunque dal GIP il giudizio immediato per le quattro persone arrestate il 9 marzo truffa disoccupazione ancora a Benevento slitta l'udienza appello per le 8 persone condannate a vario titolo in primo grado con pene fino a 12 anni di carcere ad Agropoli frasi hot alle studentesse sospeso il professore molestie e linguaggio sessualmente esplicito nei guai un professore di Agropoli un'altra inquietante vicenda scuote la comunità scolastica un professore di 65 anni in servizio al liceo Alfonso Gatto è stato sospeso per un anno a seguito di un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della procura la misura cautelare è stata eseguita dai carabinieri della compagnia di Agropoli guidati dal capitano Giuseppe Colella a pochi giorni dalla chiusura dell'anno scolastico a Napoli la famiglia di Cristina avanti per la verità morte in mare oggi l'autopsia sul corpo della donna risultati per chiarire i punti più controversi rifiuti pericolosi al Parco Sebeto SOS dei residenti un'emergenza ambientale di proporzioni preoccupanti si sta verificando al Parco Sebeto precisamente in via Macello entrando in via Marino di Caramanico da diversi mesi i residenti denunciano la presenza di rifiuti tossici abbandonati a pochi passi dalle loro case a ridosso del Parco Giochi frequentato dai bambini le segnalazioni non hanno sortito alcun effetto PEC inviate al Comune e all'assessorato alla Sanità sono rimaste senza risposta andiamo a vedere cronache di Napoli pestato a sangue per il parcheggio e l'apertura chi si ribella al pizzo sulla sosta rischia grosso il comitato occhiaia i prezzi troppo alti di strisce blu e garage favoriscono l'illegalità è stato picchiato a mare chiaro davanti ai figli voleva 50 euro e dopo ha colpito anche mia moglie nella foto l'uomo che ha riportato un trauma cranico e un dito rotto Contini guerra aperta per il Don Guanella la lotta per il controllo sull'area di via Stadera il retroscena dell'inchiesta che ha portato ad 11 arresti la procura il clan ai ferri corti con la paranza di Scampia dopo una serie di furti fuori zona a centropagina schianto contro il guardrail muore 27enne la tragedia sull'asse mediano la corsa in ospedale e un intervento chirurgico non hanno salvato la vita del giovane di Melito le strade della provincia di Napoli dunque sono state nuovamente teatro di una tragedia dell'asfalto nel riquadro il ragazzo di 27 anni che ha perso la vita in seguito a un incidente si chiamava Emanuele Giordano la politica rissa la camera sospesi i deputati Cangiano e Scotto dopo l'aggressione al grillino Donno Jimmy Cangiano e Arturo Scotto tra gli undici sanzionati serie A Ermoso è più vicino il Napoli blinda la difesa si lavora per il futuro di Ossimen e di Lorenzo da sciogliere il nodo delle commissioni Raspadori che emozione con la Juve e Conte aspetta rinforzi nel reparto europei comincia la festa la Germania sfida la Scozia Scamacca carica l'Italia in vista della gara con l'Albania a piede pagina a Torre del Greco uccise il figlio nessuna struttura vuole ospitarla revocata la libertà vigilata ad Adalgisa Gamba e all'ospedale del mare furto da 20 mila euro rubato nella notte eccoci di nuovo sui quotidiani allora andiamo sulla prima dei cronache di Caserta terremoto in comune 5 arresti tra i 14 indagati c'è anche il vice sindaco Casale il primo cittadino Carlo Marino dice fiducia nella magistratura ma il movimento 5 stelle esce dalla giunta lavori affidati in cambio di voti ai domiciliari l'assessore Marzo e i dirigenti Biondi e Natale Casale blindata dopo gli spari tre fermi sono stati portati in caserma la loro posizione al baglio degli investigatori caccia le nuove gang in lotta con Schiavone Junior Assessa Aurunca incubo nucleare scatta la rivolta contro il deposito di nuove scorie gli attivisti ora incalzano l'osservatorio ambientale e dicono no al sito temporaneo per le scorie nucleari della centrale dismessa la proloco San Castrese scende in campo e chiede di conoscere i dettagli dalla rappresentante del comune dell'osservatorio ambientale del Garigliano Casertana degli esposti pensa avventuri e casoli per il gubbio basket svolta a Juve Caserta fusione e serie B nazionale andiamo a vedere adesso la prima di cronache di Salerno verso le regionali no al campo largo sono contrarie all'alleanza tra il PD e 5 Stelle l'intervista a Francesco Morra e poi bilancio in rosso il consiglio comunale di Salerno la figliolia e la vendita della farmacia comunale due spine nel fianco dell'amministrazione a Salerno ancora palestre scolastiche d'Andrea ecco il nuovo regolamento e poi gli ultra congedano Iervolino vattene alla svelta oltre al silenzio l'incerto futuro con la Brera andiamo a vedere adesso la prima della città di Salerno uccise la moglie sapeva che era incinta battipaglia avviso di conclusione indagini per Aiello il magistrato accoltellò la troisi consapevole del bambino caotiche dichiarazioni al processo per femminicidio in corte d'assise perizia sulla capacità di intendere e di volere a Maiori scivola sulle scale unte e poi muore Salma sequestrata parte l'inchiesta aperta un'inchiesta da parte della procura di Salerno per la morte di un 87enne di Maiori deceduto pochi giorni dopo aver subito un'operazione chirurgica l'uomo nei giorni scorsi è caduto all'interno di un appezzamento di terra nocera inferiore blitz camorra e imprese spunta la pista politica a San Gregorio Magno ragazzina azzannata da un pitbull e ancora a Salerno il comune esce dal consorzio farmacie all'asta a piede pagina salernitana arrivano gli americani e il DG e con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa grazie per l'attenzione una buona giornata azzanata 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 Grazie a tutti.